ben tornati sul mio canale oggi torneremo a giocare a stuart letto guardia non sono piccolo forse mi potresti evitare direi che sono in linea fantastico che bella farfalla ce l'ho fatta un'altra foto? te la sei presa comoda eh? svelto troviamo la prossima foto voglio andare a pranzo ho fame ehi qui c'è un altro ritratto di te insieme a quel ragazzino rc sai quello che pensa di essere una specie di maestro zen? bene per fare questa foto dovrai battere in una gara di rockstar ehi ciao rc ciao giovane stuart ho escogitato una nuova sfida che ti porterà al limite delle tue capacità devi restare calmo e concentrato e guidare la tua roadster come se fossi tra le fiamme comunque l'unico modo per imparare il controllo è attraversare la strada sulle strisce sei pronto mio giovane allievo? ok rc via con la gara di roadster 3 2 1 via 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 Ehi, sei migliorato, eh Ti prenderò, giù Ehi, sei migliorato, eh Ehi, sei migliorato, eh Ehi, sei migliorato, eh Chi è? Un supereroe Pronto, 118, un topo va a fuoco E l'allievo supera il maestro Fantastico! Congratulazioni a te, mio giovane allievo Hai dimostrato che niente è impossibile Posso farti una foto per immortalare questo momento? Certo, un successo va sempre celebrato RC, da questa parte! Sì, ma ci devi essere anche tu Sto arrivando, RC! Sto arrivando, RC! Bene, allora Via verso il lago! Andiamo, fiocco di neve! Questa è l'area del lago del parco Non è il mio posto preferito C'è troppa acqua per i miei gusti Ad ogni modo, vediamo che foto ci conviene fare per prima, d'accordo? Ambarabasci, ciccocco! Quale foto io farò? Questo è un ritratto di te con quell'antipatico di Julian Sfreccia dappertutto con il suo motoscafo ed è odioso come sempre Dovrai sconfiggerlo e dimostrargli che non è così forte come pensa Solo allora poserà per questa foto Sfreccia dappertutto con il suo motoscafo